Hai ottenuto finalmente la tua Vulture Card e vuoi subito scoprire dove e come utilizzarla. Ogni punto vendita è contrassegnato da un'icona Vulture affisso all'esterno del negozio. L'elenco dei punti vendita aderenti al circuito, divisi per categorie merceologiche, è disponibile sia sull'app, alla voce Associati, sia sul portale web www.vulture.it. Ogni volta che un nuovo punto vendita entra a far parte del circuito Vulture, riceverai una notifica con tutte le informazioni riguardanti la percentuale di sconto a te riservata. Non ti resta che ricercare il punto vendita che fa al caso tuo ed utilizzare la mappa interattiva per raggiungerlo. Aspetta però, ti stai già chiedendo cosa succede se dimentichi la tua Vulture Card? Il mio consiglio una volta ottenuta la Vulture Card è quella di associarla subito alla tua app Vulture. Dall'applicazione, clicca sul tasto My Vulture e poi ancora su Leggi QR Code. Inquadra il codice presente in bassa destra sul retro della tua Vulture Card e il gioco è fatto! In questo modo, ogni volta che vorrai fare degli acquisti all'interno del circuito Vulture, potrai esibire la tua Vulture Card digitale direttamente dalla tua app Vulture. Grazie! Grazie!